È una partita molto importante, soprattutto perché vogliamo raggiungere i nostri obiettivi, poi in casa ritrovare i nostri tifosi, l'aiuto a loro è sempre molto importante, soprattutto in questi momenti di partita difficile e in momenti importanti, quindi ci aspetta una partita difficile, ma anche in casa daremo tutto e siamo sicuri che avremo l'aiuto del nostro pubblico, quindi lotteremo insieme di nuovo, sicuramente sarà una bella serata. Milano è una squadra che ha tanti punti di forza, secondo te che cosa ci sarà da fare in più per riuscire a portare a casa questa partita? Qui dobbiamo essere molto lucidi, molto aggressivi anche nella nostra battuta, nel nostro break point che sicuramente potrà fare la differenza nella partita di domani. Però la cosa più importante è entrare in campo sin dal primo punto con la massima concentrazione e il massimo impegno per poter portare a casa questa vittoria.